Io ritengo, per quella che è la mia personale idea, che le nuove generazioni siano straordinariamente coinvolte in una visione, diciamo, euro-mediterranea. Ci sia una grande possibilità di partire proprio dal basso in termini di età e soprattutto dalla cultura e dalla formazione. Questo sia un po' come dire l'allargamento di un progetto Erasmus sia davvero forse la formula migliore in termini di comunicazione, in termini proprio di profonda convinzione dei valori, assunzione dei valori che si possa fare in un bacino che storicamente poi ci vede molto vicini. È iniziato un lunghissimo processo che a un certo punto, devo dire, si è forse conclamato con le ultime tecnologie, gli ultimi device, in cui fondamentalmente la parte visiva diventa per certi versi prevalente rispetto alla parte testuale. O meglio, la parte testuale è significativa, se concentrata, se breve. C'è ovviamente un allenamento, diciamo, all'utilizzo di strumenti che per obbligo, basti pensare Twitter, obbligano alle sintesi. Quindi la mia impressione è che ci siano proprio due stadi, cioè ci sia uno stadio, diciamo, del linguaggio immediato e in qualche modo orientante, e poi quello dell'approfondimento. Sono due livelli che possono convivere con le nuove generazioni e quindi con un allenamento alla sintesi, alla comunicazione anche non riflettuta, se pensiamo per esempio allo scambio di messaggi o di mailing, eccetera, indubbiamente porta a un cambiamento epocale. E da questo punto di vista i semiologi sono una categoria molto interessante, perché sono probabilmente i medici di questo cambiamento, di questa, chiamiamola, malattia, ma insomma trasformazione, perché non è una malattia in corso. Siamo sempre più, come dire, coinvolti e spinti a, diciamo, a sopravvivere in un mondo fatto di segni, sempre più. Mi pare che la definizione testi visivi sia perfetta, cioè ci sono dei testi che si vedono, non si leggono, e anche questo è un esempio dei nostri tempi.